Molto chiaro devo dire, in tutto questo... Bravo, un po' di buon senso Mirta, vede che ci vuole il buon senso, invece qua il governo ha già detto che dal 1 dicembre da 40 anni in su la terza dose, perdendo poi l'efficacia di inseguire, come ha detto il professor Bassetti, chi è fragile, quindi questo furione vaccinale. A lei, via, a tutti, perché mi sembra che sobbiamo ascoltare il professor Bassetti, persona di buon senso. Va bene. L'unico che fa la confusione comunque è la Sant'Anchei, che prima dice che la scienza fa la confusione, e poi adesso dice che Bassetti dice il giusto. Una cosa incredibile. Fate una cosa, fate un'altra, Sant'Anchei, così magari capisce che cosa succede. Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Allora, io ho invitato Omar Bassetti per capire che sopra Singapore, vedo che Bassetti è stagiato da quello che accade in Italia. Io sono ridicola, ma la Sant'Anchei è maleducata, invece, è un'altra cosa. Ah, ok, no, no, non facciamo polemiche fra voi due. Forse è meglio essere maleducata che non ricordarsi le cose che uno dice. Allora, forse è meglio maleducata che non ricordarsi le cose che uno dice. Forse è meglio maleducata che non ricordarsi le cose che uno dice. Signore, vi prego, vi prego, volevo che ci raccontasse cosa accade a Singapore. Dove... do